Come puoi vedere Fortnite si è bloccato a connessione in corso ovviamente ho avviato il gioco ed è rimasto così nella schermata connessione in corso quindi come possiamo risolvere così questo problema ovviamente andiamo direttamente a prima fare alto F4 per chiudere il gioco definitivamente assicurati anche che il gioco sia chiuso in gestione attività quindi vai su gestione attività e controlla se il gioco è chiuso Una volta fatto chiudi un attimo Epic Games chiudi Epic Games se è un problema di connessione noi possiamo andare semplicemente su impostazioni rete e internet impostazioni di rete avanzate io uso un cavo Ethernet faccio direttamente disabilita la connessione internet tasso destro su start gestione dispositivi Vado direttamente sulle mie schede di rete quindi vado direttamente sulla mia connessione di rete realtech faccio aggiornare driver cerchi il driver nel computer scegli da un elenco di driver disponibili Metto il primo modello e faccio avanti e installo così e faccio chiudi E chiudo qua Tu stai usando un cavo Ethernet come puoi vedere eccolo qua Sta cercando di connettersi quindi su impostazioni rete e internet e se è connesso Quindi prova anche a scollegare il cavo Ethernet e a ricollegarlo oppure con la scheda di rete stessa cosa abilità disabilità Chiudiamo un attimo qua e adesso andiamo su esegui Questo esegui qua sopra vai a scrivere %appdata % e fai ok Andiamo su appdata local scendi fino a giù fino a trovare così la cartella di Fortnite game ed eccola qua Save e qui ci sono config tutte le configurazioni che abbiamo fatto su Fortnite E qui ci sono i crash puoi anche eliminare questa cartella Config invece se in questo caso qua dentro hai salvato tutte le tue configurazioni Quindi hai configurato così la grafica, lo schermo, il mouse e tutte queste cose qua Ti consiglio di salvarti questa cartella Fai copia La incollo sul desktop Perché a me serve questa cartella E elimino la cartella qua dentro E faccio svuoto il cestino Una volta fatto apro Epic Games Una volta aperto Epic Games andiamo nella libreria Andiamo a trovare Fortnite Tre puntini Gestisci E facciamo la verifica Grazie 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 Una volta fatto andiamo su Fortra in tre puntini, gestisci, opzione di lancio ti consiglio di avviarlo in DirectX11, quindi trattino di 3D11, se usi una scheda grafica Nvidia vai su Nvidia, il programma che ti ho lasciato in descrizione è il programma Nvidia App, quindi è la versione beta che devi scaricare e installare, vai su grafica ed ecco Fortnite. Impossibile recuperare i valori attuali, è possibile salvere il problema avviando e chiudendo il gioco, quindi adesso noi andiamo un attimo ad avviare il gioco, sperando che si splocchi così la parte di connessione in corso e facciamo avvia. Grazie Con nessuno in corso, aspettiamo un po' accesso e attività. E' in corso ed ecco che Fortnite si sta avviando senza nessun problema. Trovare impostazioni migliori, come ho detto save alla cartella dove abbiamo salvato tutte le nostre configurazioni, facciamo rifiuta. Ed ecco che Fortnite si è avviato senza nessun problema, quindi se questo video ti è stato utilissimo iscriviti, lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao Ciao